80% del business down in un paio di settimane e non esagero se dico che era circa l'80%. Oggi voglio raccontarvi un episodio molto personale ma dal quale ho imparato veramente tanto. Voglio condividere con voi quello che è successo all'inizio 2020 quando è scoppiata la pandemia e c'è stato il primissimo lockdown e quindi siamo stati tutti quanti costretti chiusi in casa. So che apprezzate molto questi episodi dove vado un pochino più sul personale e poi so che da questi racconti secondo me si può imparare molto più che dai libri, dai tutorial e d'altra roba. Io sono Raffaele Gaito e ti do il benvenuto. Ho oltre 15 anni di esperienza come imprenditore nel digitale e qui sopra aiuto le aziende e le persone a far crescere il loro business e il loro mindset. Se ti interessano questi argomenti seguimi su YouTube e su Instagram per saperne di più. Come per molte persone e aziende lì fuori che stanno ascoltando in questo momento, l'arrivo della pandemia nell'inizio del 2020, il lockdown e tutto quello che è successo e che si è scatenato in quel periodo è stato un momentaccio. Non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista del business e come sentirete nell'episodio di oggi io non faccio eccezione a questa cosa. Essendo passato oltre due anni da questo racconto mi sento sereno nel condividerlo, quindi nel raccontarvelo così pubblicamente, nel raccontarvi quello che è successo dietro le quinte di quei giorni un po' particolari, utilizziamo questo termine, e soprattutto raccontarvi anche perché quel momento è stata una mana dal cielo, quali sono le cose importanti che ho imparato in quel periodo. Quando a marzo del 2020 in Italia è scattato il primissimo lockdown, non so se vi ricordate, no? Subito dopo la Cina era l'Italia quella nel quale si iniziava a parlare di lockdown e del virus, io praticamente nel giro di un paio di settimane ho perso circa l'80% del mio business. E voi potreste dire, ma come cavolo è possibile una cosa del genere? È possibile, è possibile perché il mio business era strutturato in maniera completamente diversa rispetto a come è strutturato oggi e soprattutto, c'era un elemento fondamentale che fa la differenza in questa storia, era tutto molto legato alla mia presenza fisica. Molte attività, soprattutto quelle di consulenza e quelle di formazione, erano strettamente legate alla mia presenza fisica in aula oppure in azienda. Nel momento in cui è stato chiuso tutto ho iniziato a ricevere una serie di mail che facevano più o meno così, ciao Raffaele, vista la situazione abbiamo deciso di annullare il workshop, oppure ciao Raffaele, nei casi migliori, ciao Raffaele, visto quello che sta succedendo, la chiusura eccetera eccetera, abbiamo deciso di spostare la consulenza, la formazione all'estate, alla fine dell'anno e così via. Quindi una valanga di cose cancellate, dall'oggi al domani letteralmente cancellate, e qualcuna rimandata di 6-9 mesi nel migliore dei casi. La mia prima reazione, quindi nei primi 3-4 giorni, quando ad arrivare queste mail che arrivavano erano poche, la mia reazione è stata beh dai, sti cazzi, ci sta, voglio dire, vogliono riaggiustare un po' il tiro, no, cambiare un po' le cose, stanno chiudendo, quindi è normale che cambino un pochino anche le strategie per i prossimi mesi, per le prossime settimane. Dopo qualche giorno, quando queste mail si sono iniziati ad accumulare, non era più uno sti cazzi, ma era aspetta un attimo, ma perché si sta scatenando tutto questo panico nelle persone? Perché stanno reagendo in questo modo? Se si fermano è la cosa peggiore che possono fare. Dopo due settimane nel ricevere ogni giorno email del genere, comunicazioni del genere, quello nel panico ero io. Quello nel panico ero io, e non mi vergogno a dirlo. Ricordo perfettamente la sensazione di paura, il terreno che mancava sotto i piedi in quel momento, anzi se ci penso in questo momento anche nel raccontarlo la pelle d'oca mentre lo racconto, e la sensazione di panico di quello che stava succedendo. 80% del business down in un paio di settimane, e non esagero se dico che era circa l'80%. Quel panico è durato almeno per un paio di settimane, forse pure qualcosina in più, adesso non ricordo esattamente, che sono stati dei momenti nei quali io fondamentalmente provavo a discutere con le persone, quindi con i clienti, con le aziende che mi avevano annullate le attività, cercando di capire ma perché la volete annullare, la possiamo fare online, non vi preoccupate, la gestiamo tutta da remoto, oppure non tirate i remi in barca, questa è la cosa peggiore che potete fare in questo momento, non bloccate le attività, eccetera eccetera. E oggi sembra folle, ma ricordatevi che all'epoca, soprattutto nelle primissime settimane, ancora non c'era tutta quella volontà di fare le cose online, e Zoom non era ancora questa azienda famosissima come Tesla, come l'ho diventato negli anni, quindi cercavo fondamentalmente di convincerli a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che volevano fare. E poi a un certo punto, quando diciamo questo momento di panico era nel pieno, ho fatto la cosa che faccio sempre quando mi trovo in un momento di difficoltà, e cioè ritirarmi per un attimo, prendermi un attimo di pausa per riflettere, no? Per riflettere con me stesso e in quel caso anche per farmi scivolare un po' addosso la sentizione di panico che si era generato. Gli stoici ci insegnano che dobbiamo concentrarci sulle cose che possiamo controllare e lasciar perdere tutto il resto. E quindi ho cercato di fare questa cosa fondamentalmente facendomi tre domande che secondo me sono state fondamentali in quel momento. La prima è cosa posso controllare in questa situazione? Perché sicuramente non posso controllare quello che pensano le persone, no? La paura che hanno in questo momento, la volontà di salvare soldi, tagliare attività, eccetera, eccetera. Quello è assolutamente fuori dal mio controllo. La seconda è stata in che modo posso uscire migliorato da questa occasione? E quindi, ok, sono spaventato, ok, sto perdendo soldi, mi sto dissanguando in questo momento, ma al di là di mettere delle pezze, che di soldi è la prima cosa che ci viene da fare, come posso costruire qualcosa nel lungo periodo? E la terza è stata, che secondo me è la più importante, ma se è vero che dalle crisi nascono le opportunità, e io ci credo in questa cosa, secondo me non è una cazzata, qual è in questo momento l'opportunità che non sto vedendo, che magari ho davanti agli occhi e che mi sto perdendo? E lo so che col senno di poi, perché sono passati più di due anni, alcune di queste domande sembrano ovvie, banali, e le risposte sembrano anche facili, ma in quel momento le domande non erano per niente ovvie, e le risposte soprattutto non erano per niente facili. La prima cosa che ho capito, quando ho cercato di riflettere su quelle domande, e quando mi sono dato delle risposte, la prima cosa che ho capito è che ovviamente il mio business dipendeva troppo da me, proprio letteralmente dalla mia presenza fisica, come dicevo prima io dovevo andare fisicamente in azienda, andare fisicamente all'interno di un'aula e così via. Per rendervi l'idea della portata di questa cosa, l'anno prima, quindi nel 2019, io avevo preso a occhio e croce una cinquantina di voli, non ricordo adesso esattamente il numero, ma 50 voli in un anno. Io se ci penso adesso è una folle e mi viene da vomitare, se penso all'idea di passare tutto questo tempo all'interno di un aereo, all'interno di un aeroporto. E questo era un primo campanello d'allarme, che oggi è chiaro, ma all'epoca non lo ero. Questo era un primo campanello d'allarme, quindi la prima cosa che dovevo fare era immaginare in che modo poter trasformare il business in modo che fosse meno legato dalla mia presenza fisica, no all'interno dell'azienda, all'interno dell'aula, come dicevo prima. Dovevo farlo in fretta, perché come dicevo arriva un momento nel quale stai proprio perdendo soldi, no? A una velocità incredibile. Qualche mese prima io avevo lanciato questo progettino, diciamo così, da parallelo, no? Da tempo libero, che era un'academy. Un'academy per chi fa impresa, per chi fa la libera professione, ma era veramente una roba nella quale lavoravo nel weekend, la sera, nel tempo libero, no? C'erano dentro una ventina di persone che erano per lo più amici, conoscenti, che mi seguono in queste pazze avventure. La prima cosa che ho fatto in quell'occasione è stato investire, quindi, su quel progetto. Quello che era un progettino secondario, perché tanto io sono preso con la consulenza, con la formazione quella vera in aula, questo è uno sfizio, quello dell'academy, è diventata invece una cosa più importante, no? Con un ruolo principale, proprio all'interno del mio business, del mio lavoro. E quindi è stato investirci di più, proprio in termini di tempo, no? Di energie, di risorse. Quindi da un progettino con una ventina di amici dentro, poi sono diventate una cinquantina di persone, poi sono diventate cento persone, poi sono diventate duecento. Oggi il Growth Program, perché quell'academy è il Growth Program, conta più di duecentocinquanta aziende, esiste da tre anni, ed è il momento in cui sto registrando, e soprattutto è una delle cose più belle che ho fatto, è uno dei progetti sui quali ho lavorato, di cui sono più orgoglioso, ma veramente orgoglioso, e ve lo dico così, con gli occhi a cuoricino, perché sto guardando il video, perché è una cosa veramente bella, sulla quale mi concentro tantissimo, mi dedico tantissimo, e mi piace tantissimo lavorare. Ovviamente poi ho ripreso pian piano a fare anche le altre attività, no? Se vi ricordate, le aziende si sono un po' calmate, Zoom è stato sdoganato, il fatto che si potesse lavorare del remoto è stato sdoganato, quindi ho ripreso con le altre cose. La parte di formazione, sono riuscito a spostarla tutta completamente online, no? All'inizio forzando un po' la mano, poi dopo si sono abitati un po' tutti quanti, sia quella in azienda che quella in aula. La parte di consulenza, che è quella che a me piace di meno, è proprio, diciamo, di tutte le cose che faccio nel mio lavoro, è la parte che mi piace di meno in assoluto, l'ho ridotta all'osso, e piano piano sto cercando di andarla proprio a eliminare, no? Di farla scomparire del tutto prossimamente. E poi io facevo e faccio anche tanto public speaking, inteso proprio le conferenze, no? I talk, talk in azienda, oppure talk ad eventi, conferenze, eccetera, eccetera. E anche quella parte lì l'ho spostata online, che per me era una cosa impensabile due o tre anni fa, no? Io che sono un animale da palco, che mi piace parlare davanti alle persone, era impensabile partecipare a una conferenza da Zoom. E in tutti gli altri casi, dico di no, questa è la cosa principale. Rifiuto il lavoro, semplicemente. Rifiuto il lavoro, rifiuto il progetto, rifiuto il cliente. Ho pieno la mia casella email, no? Di risposte del tipo, allora, guarda, se volete me questa cosa la facciamo su Zoom, altrimenti chiamate qualcun altro. E non è che quando rispondo così lo faccio con, come dire, con aggressività, no? Lo faccio per essere spavaldo. Assolutamente no. È perché io sono l'unica persona che può prendersi cura di me. Io sono l'unica persona che può proteggere il mio tempo. Quindi quella risposta non è arroganza, quella risposta è io che mi prendo cura di me, che dico di no. Che è una delle cose più difficili da fare in assoluto, ma è anche una delle cose più importanti, che proteggo il mio tempo, e che faccio selezione. Quindi quando si dice che nelle crisi nascono le opportunità, è verissimo. Perciò dicevo prima, non è una frasetta fatta per me, non è una robetta motivazionale da Instagram. Io ci credo a questa cosa, ma patto che noi cogliamo quelle occasioni, e quindi quelle crisi, quei momenti che stiamo vivendo, per guardarci dentro, persone, aziende, organizzazioni, e avere il coraggio, la forza poi di fare dei cambiamenti, no? Quello significa poi effettivamente sfruttare quell'occasione, no? Cogliere l'opportunità. Se ci pensate, è sempre stato così. Le avete sicuramente viste in giro le liste, no? Dalla crisi del 2008 sono nate realtà come Uber e come Airbnb. Prima ancora, dalla crisi del 2001, sono nate dei colossi come Amazon e come Google. Ma storicamente è sempre stato così. Microsoft è uscito da una crisi, HP è uscito da una crisi, Disney è uscito da una crisi. È sempre stato così. Ecco perché è vero che dalle crisi nascono le opportunità. Perché quello che succede è che le crisi fanno cambiare le priorità. Le crisi cambiano le carte in tavola, cambiano le regole del gioco, no? Quando cambiano le priorità, cambia tutto. E se capiamo questa cosa, allora riusciamo a entrare nella mentalità di sfruttare quel momento, no? Quella crisi, quella situazione nella quale ci troviamo per farla diventare un'opportunità. Ed ecco perché dicevo, ho iniziato questo episodio dicendo che quel momento per me alla fine è stato una mana dal cielo. Perché ci sono stati una serie di cambiamenti positivi che probabilmente senza quel momento, senza quell'episodio, non sarebbero mai avvenuti. E tre su tutti. Il primo, e come dicevo prima, è nato il Growth Programme. di cui sono orgogliosissimo, è il progetto di cui sono più orgoglioso tra le tante cose che faccio in questo momento. Anzi, se non lo conoscete, andate a spulciarlo, andate su GrowthProgramme.it per saperne di più, per leggere di più. Oggi mi dedico a questa cosa, anima e corpo. Ho invitato dentro i maggiori esperti, le maggiori esperti italiane, di marketing, di business, e così via. Ed è una cosa che per me è diventata un punto di riferimento. Cioè, so che le persone lì dentro si trovano bene, si è creata una bella community, c'è gente che studia con me da anni, aziende, persone, professionisti che si sono legate a questa cosa. E questa è una cosa bellissima che forse non sarebbe mai diventata così senza quel momento. Il secondo punto è che mi ha permesso di migliorare notevolmente la qualità della mia vita. Cosa voglio dire? Beh, eliminando 50 cazzo di voli in un anno, facile migliorare la qualità della vita. Perciò che dicevo, oggi mi sembra impensabile, mi sembra follia che io facessi una roba del genere. Ho realizzato che non mi piaceva quello stile di vita, era inutilmente stressante e poi toglieva tempo a delle cose che invece erano importanti, gli amici, per il quale trovi tempo quando togli tutti questi voli. E la terza è che mi ha fatto concentrare sulle cose che veramente mi piacciono, andando a eliminare tutto il resto, quello che era rumore di fondo, oppure riducendo le cose che per me sono meno prioritarie, meno importanti, come dicevo prima ad esempio della consulenza. Quindi sono passato dall'accettare qualsiasi lavoro, perché tanto sono sordi, dicevo io, a fare invece un filtro, una selezione su chi è il cliente, chi è il progetto, mi piace questa cosa, quanto posso dedicarmi, quanto sono coinvolto e così via. Questo mi fa accettare meno cose, mi dà più tempo, fa aumentare la qualità, mi fa lavorare meglio e mi fa pagare anche meglio rispetto a prima. Com'è? Ci insegna il filosofo e matematico Taleb, sono questi momenti che ci rendono antifragili, no? Il famoso se sopravvive a uno shock ne esci migliorato. E questo vale per le persone e vale anche per le aziende, questo ragionamento. Tra l'altro, se non avete mai sentito parlare di Taleb e del concetto di antifragilità, vi consiglio assolutamente di recuperare sul mio canale YouTube un video nel quale ne parlo. Antifragile è il libro che mi ha cambiato la vita. È il libro che dovrebbero leggere assolutamente tutti quanti e in questo video sul mio canale YouTube spiego esattamente il perché dovete leggerlo anche voi.